Ciao, sono Cristina, sono la titolare di una impresa di pulizia di Bessica di Loria. Ho preso la birba sei mesi fa e sono molto contentissima. Lo uso nei panifici, nelle aziende, anche nelle case. Pulisco dei forni dove non si usano i detersivi, l'acqua e il sapone, di tutto. Stiro perfettamente con lei, sono molto contentissima. Il mio marito è molto pretenzioso, con le camicie, quindi adesso non mi dice più niente. Perfetto. Niente, io vi direi di prenderla sicuramente, che è un buon affare. Grazie mille, ciao.